Un agguato mafioso in piena regola che non ha lasciato scampo a Francesco Catalano, 50 anni, ucciso ieri sera intorno alle ore 20 con quattro colpi d'arma da fuoco alla testa, mentre aveva appena fatto rientro a casa, situata nel condominio Il Glicine ad Arghillà, quartiere alla periferia nord di Reggio Calabria. Cicciu Ubbombularu, questo il suo soprannome, era il titolare di una rivendita di gas a Gallico ed è stato colpito da una pioggia di proiettili quando si trovava ancora all'interno della sua auto, una Fiat 600 grigia. Nel 2006 è stato coinvolto nell'inchiesta vertice poiché è ritenuto vicino al clan condello di Archi. Gli uomini della polizia scientifica hanno compiuto i rilievi tutta la notte, sul posto immediato l'intervento anche degli agenti della squadra mobile che stanno indagando sul caso. Un caso che è già passato nelle mani della DDA retta da Giovanni Bombardieri, poiché, vista la dinamica, si incastrerebbe nella faida intestina tra i clan di Archi e quelli di Gallico, che da tempo sta insanguinando la zona nord della città. Esattamente un anno fa, proprio a Gallico, venne assassinato Pasquale Kindemi, anche lui legato ai Condello, mentre un mese dopo, in un altro agguato mafioso, rimase uccisa la 47enne Fortunata Fortunio, ma il vero bersaglio dei killer era Demetro Lo Giudice, esponente dell'omonimandrina. La periferia nord-regina continua quindi ad essere teatro di quella che prende sempre di più le sembianze di una vera e propria guerra tra cosche. Angela Panzera, per la Cineus 24. Angela Panzera, per la Cineus 24. Angela Panzera, per la Cineus 24.